Ragazzi, prima di iniziare volevo dire un paio di cose La prima è che appunto questo video io dovevo caricarlo sul secondo canale Solamente dopo aver chiesto appunto il permesso, meglio, dopo aver chiesto la vostra opinione a riguardo appunto sul dove caricare i video Voi mi avete detto di caricarlo sul primo canale e quindi eccolo qua Secondariamente volevo ricordare di passare da OneFIFA.com se siete interessati a comprare i video di FIFA E mi raccomando utilizzate come discount code Axel con due e detto questo, guardatevi il video E ciao a tutti amici, io sono una persona troppo veloce per qualcuno di voi però drunk Comunque oggi sono qui a presentarvi il secondo, non è vero, l'undicesimo episodio della serie Packs of the Day E ragazzi, vi volevo ringraziare perché l'ultimo video, quindi quello di ieri caricato alle 9 di ieri Ha raggiunto i 1311 mi piace, quindi quanti ne deve raggiungere questo? Esatto, lo sapete già, 1312 quindi mi raccomando Questo episodio deve raggiungere i 1312 mi piace Poi vi volevo ringraziare Oddio, non ci posso credere Un'informa, non ci credo Centurk, un'informa di questa serie Non mi ricordiamo anche di anche 84 Ma troviamo Centurk Va bene ragazzi Finalmente Finalmente un'informa, grandissimo Pacchetto devo dire Centurk in a pack, quindi Primo giocatore in forma di questa serie, della serie Pack of the Day fatta sul secondo canale L'ho trovato, adesso magari carico appunto questo video sul primo canale E devo dire che sono veramente contento Quindi ragazzi, superare i 1311 mi piace è d'obbligo Non gli ho visto il prezzo ma lo andrò a vedere tra pochissimo in diretta Però Trunk dai, giocatore niente male Vediamo se facciamo Lemplen Eh no, mannaggia Olson e Grosicchi E Granero E poi una guarigione Che servono Cioè in questo FIFA Tipo si uccidono 5 persone a partita Se io andassi a scartare tutto Guadagnerai 1710 E facciamo così Episodio speciale Abbiamo trovato un informa Ora vado a scartare qualcos'altro E andiamo ad aprire l'ultimo pacchetto di oggi Io direi di salutare Samba, Samba, Samba E la Macarena Ah no, via diabete E ora dovremmo avere i crediti necessari Per andare ad aprire l'ultimo pacchetto Devo dire che sono abbastanza contento Dai, abbiamo entrato in forma Niente male Primo di una lunga serie si sperde in forma E ora, Lionel Messi Ci fa trovare Bruma Ma no, ma no Vabbè dai, va bene lo stesso Bruma 21, 91 di velocità Poi Marito Icardi e Hunt Quindi ragazzi Detto questo Spero che il video vi sia piaciuto Non so più dove lo caricherò Perché è possibile che anche Lo carichi sul primo canale Dato che ho trovato appunto il mio primo informa Quindi comunque Episodio numero 11 No, ho scartato tutto Mannaggia Andato da lastra grande Spero che il video vi sia piaciuto Vi ricordo di lasciare un bel mi piace E detto questo Vi dico potente A palazzi Sentiamo al prossimo video Ciao a tutti